Ad un passo dal cielo i biancoverdi di Papadopulo si sono ritrovati in pieno inferno per effetto di una gara diretta in modo incerto e discutibile dal Veneto Pescrem, protagonista negativo in assoluto. Alla sua sesta esperienza NC il direttore di gara ha determinato l'esito dell'incontro con scelte scelerate che in più di un'occasione hanno trasformato un incontro agonisticamente molto valido in qualcos'altro. L'esordio di Provitali, la splendida cornice di pubblico e l'euro-goal di Ferraro sono poca cosa rispetto ad una gara condizionata da un fischietto giovane ed inesperto. Al quattordicesimo Fresta inventa per Provitali, pronta la girata a rete della punta irpina, Drago distende e rimedia in corner. I toscani sfiorano il gol con Puccinelli, pericoloso nelle sue incursioni, che salta carannante e spedisce di poco a lato. Ancora Puccinelli, pericoloso dalle parti dell'estremo irpino, lanciato da Montella comincia la corsa verso la rete, ma il portiere devia in corner. Al trentaseiesimo Papadopulo rileva Fornaciari, vittima di un infortunio. Per lui si teme una distorsione, ma si attende l'esito dell'attacca. Al suo posto entra in campo Ferraro. Il primo tempo si chiude con Lavellino in avanti a caccia del gol. Fresta per Provitali, la punta invita Marasco, ma l'offensiva irpina si perde sul fondo. Alla ripresa del gioco, Lavellino passa. Calcio piazzato di Fioretti, strana traiettoria del pallone che sembra perso, ma Ferraro in acrobazia di collo pieno mette in gol, centrando il set destro di Drago. La festa eripina è però interrotta dall'espulsione di Provitali. La punta commette fallo da Tergo su Bianconi. L'arbitro non ha dubbi e spedisce l'attaccante negli spogliatoi. Lavellino, seppure in dieci, continua ad attaccare, ma in difesa si corre qualche rischio di troppo. Botta e risposta tra le due squadre in campo, mentre i minuti passano e di Biancoverdi assapurano la gioia della vittoria. Questo è uno degli ultimi rischi corsi da Lavellino. Lisciano in due la palla in area. Non ne approfitta Nicoletti, che da buona posizione perde il tempo giusto per la battuta a rete. La partita sembra finita qui. Lavellino già brinda i tre punti e dalla vetta conquistata. Ma la coda della gara è ricca di sorprese per i Biancoverdi, che un minuto prima della fine perdono il tecnico, espulso dal direttore di gara. Quattro minuti la beffa. Masini, in pieno recupero, su calcio piazzato e pescato in area. Puntuale la sua stoccata, che trafigge Landucci. Doccia fredda sul partenio, mentre gli azzurri di Empoli, ancora increduli, festeggiano il pari dell'ultimo secondo. Il dopogara di Avellino Empoli è lo sfogo di Antonio Sibilia, che in settimana si farà sentire in Lega. La rabbia di Papadopulo, che ancora non crede agli episodi della partita. Fuori qualche sasso colpisce le auto in sosta, mentre l'arbitro lascia il partenio in un'auto della polizia, dopo circa due ore dal suo fischio al novantesimo.